Siamo giunti alla penultima tappa del Giro d'Italia, la ventesima. Quest'oggi partiremo da Susa, alle 10.10, per arrivare a Cervinia alle 16 circa, percorrendo 214 chilometri nelle province di Torino e Aosta. Transiteremo da Samone, la SP222, nonché Pont Saint-Martin, la strada stradale 26, nonché Val Tourmache, la strada regionale 46. Le raccomandazioni sono le solite, un'ora prima del nostro transito, la chiusura della circolazione e attenzione al cartello inizio gara ciclistica. Da quel momento in poi ci fermeremo per applaudire i nostri ciclisti. Giriamo insieme!